Ciao a tutti, in questo video andremo a vedere le regole del gioco Path of Glory, la prima guerra mondiale 1914-1918. Il gioco è un card-driven game per due persone, storico, ormai circa quasi 20 anni, dalla prima edizione, e il gioco è di Ted Razer, edito dalla GMT Games. In questo gioco i due avversari che si andranno a fronteggiare si troveranno a combattere la grande guerra, un giocatore avrà il ruolo di comandare le truppe delle potenze centrali, l'altro giocatore invece avrà il ruolo, ai suoi ordini, le truppe delle nazioni alleate. Vediamo subito com'è composta la plancia di gioco. Innanzitutto abbiamo una mappa che riguarda l'Europa, è una classica mappa point-to-point, in cui le location sono o dei quadrati o delle stelle. Le stelle sono semplicemente dei forti che dovranno essere distrutti, forniranno delle difese maggiori ai loro occupanti. La difesa di questi forti, il valore che contribuisce alla forza o difesa, insomma, di questi forti, è questo numerino che troviamo qui. Per esempio Breslau è un forte che fornisce due punti di difesa, Ivangorod è un forte che fornisce un punto di difesa. Le altre location sono location non fortificate, quindi sono queste città, sono questi quadrati, quali Lodz, Block, Berlino, Cottbus, per esempio. Per quanto riguarda le connessioni, le connessioni sono queste linee che permettono quindi il passaggio delle unità durante le loro attivazioni da una location all'altra. Il costo di movimento tra una location e l'altra sarà sempre di un punto, indipendentemente dalla tipologia di terreno, che potrà essere per esempio una foresta, indicato da questa doppia colorazione e dal simbolino verde di foresta riportato all'esterno del quadrato, piuttosto che di paludi o anche montagne, abbiamo qui a Gorlicia per esempio la doppia colorazione e il simbolo di montagna, o avremo qui nel Medio Oriente degli spazi di tipo deserto. Indipendentemente dalla tipologia di terreno, il movimento, vedremo, costerà sempre uno, quindi le truppe si sposteranno da una casella all'altra spendendo un punto in movimento. Ci sono delle restrizioni sulle linee tratteggiate, ma spesso sono riportate sulla plancia stessa di gioco, per esempio qui solamente questa tipologia particolare di truppa, l'ANA, potrà attraversare questa linea, così come solamente le truppe soviete, le truppe russe, potranno attraversare queste connessioni. Salvo quindi queste linee tratteggiate che sono riportate con la specifica sopra, i punti ripeto che spenderanno l'unità per muoversi saranno sempre uno e potranno spostarsi liberamente su queste location. Alcune location sono bordate in rosso e hanno il nome rosso, perché saranno le classiche location che forniranno i punti vittoria, altre location hanno il simbolo dei supply e questi saranno i centri da cui dovremo verificare se un'unità risulta essere in rifornimento. Ad esempio per quanto riguarda le potenze centrali avremo Essen, Breslau, avremo Costantinopoli, avremo anche Belgrado. Possiamo vedere qui che fornirà supporto, sussidio alle unità serbe. Per quanto riguarda invece il giocatore alleato avrà sul fronte russo il Caucaso, Kharkov e Mosca che forniranno rifornimenti sul fronte sovietico, mentre avremo qui per esempio Londra per quanto riguarda il fronte occidentale. Sulla plancia di gioco troveremo anche delle informazioni per quanto riguarda il setup, queste bandiere qui con l'indicazione delle unità che andremo a trovare, qui per esempio a Timisvar ci sarà un corpo austro-ungarico o qui a Moncas una seconda armata ridotta, ma questo adesso lo andremo a vedere subito, immediatamente. Oltre alla mappa fisica del gioco avremo dei track presenti, sulla destra in alto ci sarà il tunnel track, la partita, lo scenario di campagna durerà massimo 20 punti, pertanto questo track potrà arrivare al ventesimo turno e c'è l'indicazione sia dell'anno in cui ci troviamo in quel determinato turno che della stagione perché questo avrà rilevanza su impatti, su alcune carte e azioni che verranno giocate. Un altro track lo troviamo qui in basso sulla sinistra dove abbiamo due track che permettono di determinare l'entrata in guerra degli Stati Uniti e la capitolazione eventuale della Russia con la rivolta bolshevica e quindi il termine delle ostilità e l'uscita dalla guerra per quanto riguarda la Russia per il giocatore sovietico, su questo ci torneremo più avanti. Ma poi abbiamo anche un track generico dove possiamo riportare informazioni uguali in punti vittoria, questo track arriverà massimo a 40, non perché il giocatore delle potenze centrali potrà arrivare a 40 punti, ma perché ci sono altre indicazioni che dovremmo trattare, in particolar modo il livello di guerra, quello che viene chiamato il worst status. Su questo track infatti oltre ai punti vittoria, questo marker qui, avremo l'indicazione dello stato di guerra delle CP, delle Central Power o degli alleati e sotto a quello delle potenze centrali vediamo ci sarà anche un marker che terrà conto dello stato di guerra generale combinato, che sarà semplicemente pari alla somma dei due indicatori, pertanto se ad esempio questo indicatore adesso salisse di 1, lo stato di guerra del giocatore alleato sarebbe ad 1, quello del giocatore delle potenze centrali a 2 e quello combinato a 3 e questo avrà impatti su determinate azioni che si potranno fare nel gioco. Su questo track andremo quindi anche a indicare gli eventuali punti vittoria che il giocatore delle potenze centrali ha fatto sul fronte russo, quindi quante città se vogliamo che valgono punti vittoria avrà occupato in Russia e vengono anche indicati queste informazioni, questi sono i vari replacement point per quanto riguarda il giocatore delle potenze centrali, cioè i rimpiazzi, i punti rimpiazzi che potrà spendere alla fine di ogni turno il giocatore delle potenze centrali per quanto riguarda le armate, l'esercito tedesco, austro-ungarico, turco o bulgaro e per quanto riguarda invece il giocatore alleato per quanto riguarda le truppe inglesi, francesi, russe, alleate intese magari come le truppe del Belgio piuttosto che truppe canadesi o quant'altro, truppe italiane e poi infine anche truppe statunitensi. Questi sono dei track generali, questo che troviamo in basso a sinistra e in alto a destra. Troviamo poi in alto qui a sinistra una classica chiave leggenda dei vari terreni di mappa, dove ci sono quelli che abbiamo già spiegato con le eventuali connessioni, ci saranno dei porti, sono questi indicati con la classica ancora e ci sono poi queste aree, ne ha uno il giocatore delle potenze centrali qui e uno il giocatore alleato qua sotto, che servono semplicemente ad indicare l'eventuale offensiva obbligatoria che dovrà essere eseguita durante il turno, lo vedremo quando spiegheremo la sequenza di gioco, un box dove riportare le unità che sono state eliminate, che sono magari morte durante la plancia e quindi vengono poste in questo box per essere costruite successivamente, rimesse in gioco tramite l'utilizzo dei punti rimpiazzo e questa sorta di action round chart, come viene chiamato sulla plancia di gioco, dove ogni giocatore avrà a disposizione qui dei marker con un valore che vanno da 1 a 6, perché durante il turno, durante il cuore del gioco, essendo questo un card driven game, ogni giocatore avrà diritto ad eseguire 6 azioni, andrà a indicare quale azione è stata fatta per prima, per seconda, terza, quarta, quinta e sesta durante il turno, oltre che semplice reminder per appunto indicare ciò che è stato fatto, è anche utile perché alcune azioni potranno essere fatte solamente una volta per turno e quindi se quella da terminata cella risulta già occupata perché quell'azione è stata eseguita dal giocatore già ad un'azione precedente durante il turno, serve anche a impedirgli di rifarla nuovamente, così alcune azioni possono essere eseguite una volta per turno in totale, non per giocatore, così come alcune azioni possono essere eseguite ma non consecutivamente, più volte durante il turno ma non consecutivamente, per esempio giocare una carta per un SR, cioè per uno strategic redeployment può essere fatto più volte durante il turno ma non su azioni consecutive, ma questo appunto come dicevo lo vedremo a breve. Infine per quanto riguarda l'ultima cosa che dobbiamo vedere sulla mappa di gioco abbiamo qui sulla destra il box delle riserve e infine, non l'avevo citato, lo dico subito adesso, abbiamo come già detto la mappa dell'Europa e un box che riguarda il vicino oriente che è stato riportato, quindi immaginiamo che ci sia insistenzialmente la prosecuzione qui della Turchia, vediamo per esempio Costantinopoli che riparte da questa zona, quindi quello che si trova qui in basso a sinistra con la Turchia, le truppe in Egitto del giocatore alleato, le truppe inglesi in Egitto del giocatore alleato e le truppe sul fronte caucasico del giocatore russo. Sul modulo Vassal qui è stato già setappato uno scenario di partenza, il modulo mette in campo anche le truppe di unità che formalmente non sono ancora in guerra, tant'è che c'è questo pulsante qui in neutral country che ci dice che fin tanto che l'Italia ad esempio risulta essere neutrale non potremo attraversare i territori italiani e queste truppe come se non ci fossero, quindi sul modulo Vassal sono state già indicate, quando l'Italia piuttosto che la Romania, la Bulgaria o la Turchia entreranno in guerra si andrà a rimuovere questo token e quindi si avrà accesso tra virgolette a questa plancia, a questa parte della plancia di mappa che all'inizio della partita è come se non vi fosse. Per quanto riguarda le unità del gioco andiamo qui per esempio a zoomare un attimino sul fronte occidentale, esistono due tipi di unità a cui avranno accesso i giocatori che sono le armate, ognuna con il suo numero distintivo, questa per esempio è la sesta armata tedesca, qui abbiamo uno stack di quarta e quinta armata tedesca che possono esistere in due stati, l'armata piena che è questa e l'armata ridotta che è una banda così come la non armata per esempio è un'armata francese ridotta così come la sesta mentre la quinta armata è un'armata francese a forza piena. Naturalmente un'armata da forza piena diventerà ridotta quando subirà un determinato numero di perdite e abbiamo anche delle truppe più piccole anche sul gioco fisico queste truppe sono questi quadrati sono effettivamente più piccoli, li metto qui vicino insomma per rendere l'idea, che sono i corpi. Anche i corpi possono esistere in forma piena o in forma ridotta. Sia i corpi che le armate presentano tre numeri qui in basso in cui il primo valore rappresenta il fattore di combattimento che possiamo dire quanto è forte a combattere l'unità stessa, il numero centrale rappresenta il fattore di perdita ovvero banalizzandola quanti hit deve subire affinché l'unità venga ridotta e l'ultimo numero è il fattore di movimento di quanti spazi si muove quest'unità, abbiamo già detto che spostarsi da uno spazio all'altro che sia collegato costa un punto movimento indipendentemente se il terreno di arrivo è una foresta, è un terreno normale, è una montagna o cose di questo tipo. Questi tre numeri e queste proprietà dei tre numeri valgono sia per le armate che per i corpi. Sulla sinistra troviamo la nazionalità, qui c'è la scritta G per indicare che è della Germania, FR è per la Francia, BR è per i britannici, quindi la Gran Bretagna, B per esempio su questa è perché questa è l'unità del Belgio. Hanno pertanto anche colorazioni differenti. Alcune unità hanno questo puntino, per esempio qui l'unità della Gran Bretagna ha questo puntino il British Expeditionary Force e sta a indicare che queste unità una volta che sono perse non possono essere ricostruite, quindi non possono essere nemmeno rinforzate durante la fase dei replacement, pertanto se eliminate vengono eliminate per sempre. Ci sono poi anche altre informazioni su unità particolari che vengono scritte su queste pedine e riguardano soprattutto le regole per quanto riguarda la mappa nel vicino oriente. Quindi per esempio c'è il corpo di spedizione del Mediterraneo degli inglesi che sarà il MEF e quello può operare per esempio nel vicino oriente e quindi avrà un NE sul token dell'utilizzo. Oltre a questi ci sono degli altri token che potranno essere utilizzati dai giocatori che sono le trincee, alcune sono già presenti qui a Nanzi per esempio c'è una trincea per il giocatore alleato così come a Strasburgo c'è una trincea per il giocatore delle potenze centrali. Trincee che possono essere di due livelli, livello 1 e livello 2 e quindi livello 2 darà maggiori benefici rispetto al livello 1, dei segnalini di controllo, pertanto quando le varie truppe marceranno, avanzeranno lungo il fronte e lasceranno dietro di sé i segnalini di controllo a determinare, a indicare che sono stati occupati quei determinati territori. Avremo dei token che servono a indicare che un forte è messo sotto assedio o addirittura che è stato distrutto e poi sono presenti nel gioco dell'indicatore a indicare le azioni che si vogliono fare eseguire alle unità. Qui abbiamo questo scenario che partono con queste due armate che sono già in fase di attacco, però potremo anche ordinare un movimento con questo token. E infine ci sono dei marker per indicare casistiche particolari quali truppe fuori supply, la sud army che è un evento particolare del giocatore, delle potenze centrali, tentativi falliti di trinceramento che beneficeranno i duri successivi di un bonus di uno quando si utilizzano delle regole particolari, però insomma questo poi si può vedere pian pianino nel corso del gioco. Vediamo adesso come si svolge il gioco, la sequenza di gioco. La sequenza di gioco è una sequenza molto semplice, il gioco in realtà a livello di regolamento è un gioco piuttosto semplice in sé, se non erro sulla scala di complessità della GMT è dato come difficoltà 4. Quello che è non tanto difficile ma complesso nel gioco è la gestione strategica dei vari fronti presenti sulla plancia, perché il gioco rappresenta e permette ai giocatori di medesimarsi molto bene nella prima guerra mondiale e pian piano cominciando a giocare si vedrà che ogni centimetro che si riesce a guadagnare lungo in fronte è veramente sudato e viene ottenuto con sacrifici enormi. Allora come comincia un turno? Il primo step del turno di gioco è quello di determinare le offensive obbligatorie, ovvero ogni giocatore tirerà un dato, in base al risultato del dato probabilmente quel giocatore sarà obbligato ad eseguire un attacco su un fronte. Per esempio immaginiamo di tirare per il giocatore delle potenze centrali, tira un D6, va a vedere il risultato e va a vedere cosa è accaduto. Su un risultato di 5 o 6 non è necessario eseguire alcuna offensiva obbligatoria, pertanto il giocatore può scegliere di giocare come meglio crede. Nel caso in cui fosse uscito un 1 o un 4 ad esempio il giocatore avrebbe dovuto attaccare con delle unità austriache o con delle unità tedesche, in particolar modo quando esce il risultato di offensiva tedesca si intende che questa offensiva deve essere comunque condotta contro truppe francesi e inglesi che si trovano in Francia o in Germania e Belgio e se invece fossero uscito come valore del risultato 3 o 2 il giocatore delle potenze centrali avrebbe dovuto condurre almeno un'offensiva con le truppe turche o con le truppe austro-ungariche contro truppe italiano in Italia, questo a simboleggiare il fronte italiano dell'impero austro-ungarico. Dal momento che tutte le partite cominciano con lo stesso setup e quindi quando i due giocatori si vanno a sedere sul tavolo da gioco scelgono lo scenario che vogliono giocare, ovvero la lunghezza, se avere 3 turni di gioco per lo scenario introduttivo, massimo 10 turni di gioco per lo scenario di limited war o la campagna che sono 20 turni di gioco, può accadere che l'Italia o la Turchia non siano in guerra quando viene estratto come risultato dell'offensiva obbligatoria proprio il numero 2 e il numero 3, perché in tutti questi scenari le nazioni che sono in guerra sono la Germania e l'austro-ungheria per quanto riguarda il giocatore delle potenze centrali, per quanto riguarda il giocatore alleato abbiamo qui la Serbia, la Russia, l'Inghilterra, la Gran Bretagna, con la Francia e il Belgio, pertanto i turchi risultano ancora fuori dei giochi e l'Italia non è ancora entrata in guerra, quindi per esempio se esce un 3 non potremo attaccare con i turchi, così come nel caso esca un 2 non potremo attaccare con gli italiani, diciamo sull'Italia o contro truppe italiane. In questo caso se esce quindi il valore 3 si considera che in realtà è un nulla di fatto, mentre se esce il 2 lo si considera come un'offensiva del giocatore austro-ungherio, quindi il 2 in quel caso viene tradotto in un 1. Per il giocatore invece degli alleati vediamo che non c'è un risultato che dia immediatamente un nulla di fatto, se viene un 1 o 2 è costretto ad attaccare con truppe francesi, con 3 con truppe inglesi, 4 con truppe italiane, 6 con le truppe della Russia. Anche qui se esce sul lancio di dado l'Italia, ma l'Italia non è schierata, in questo caso viene considerato come un nulla di fatto. Questo è il primo step, quindi determinare l'offensiva obbligatoria. Alla fine del turno di gioco, se non è stata eseguita l'offensiva obbligatoria richiesta, quel giocatore perderà un punto vittoria. Quindi comunque sia potrebbe anche essere una scelta strategica del giocatore, nonostante sia obbligato dall'alto comando ad attaccare una determinata regione, scegliere volontariamente di non farlo. Successivamente si entra nella fase delle azioni, quindi i giocatori pescano le carte, di norma devono avere 7 carte, se si utilizza la variante dello scenario storico avranno 8 carte, pescano queste carte e cominciando dal giocatore delle potenze centrali si alternano con dei round di azione. Entrambi avranno 6 round di azione. Al termine dei 6 round di azione ci sarà una fase di attrition e seguita da una fase di siege, in cui nella fase di attrition si verifica se le unità di un giocatore risultano essere fuori rifornimento. Cosa significa questo? Supponendo che durante l'avanzata del fronte la truppa tedesca sia arrivata sin qui e quindi durante la sua avanzata abbia per esempio, immaginiamo che abbia conquistato tutte queste location, abbia distrutto questi forti e conquistato queste città, questa truppa ha una linea di comunicazione verso un centro di rifornimento, quindi un pat che parte dalla zona in cui si trova l'unità stessa fino ad una zona che fornisce rifornimento, in questo caso Breslau, questa linea deve passare attraverso territori che sono controllati dal giocatore, questa linea risulta essere in rifornimento. Se però durante l'ultima azione, la sesta azione, immaginiamo del suo turno, il giocatore alleato riesce a muovere questa unità presente qui a Lublin e attraverso un'azione di movimento di questa unità presenta tre punti, esegue un movimento di questo tipo, questo segnalino sparisce perché il controllo nel gioco viene determinato come l'ultima unità che riesce a transitare su questi spazi. Pertanto eliminando questo segnalino, questa unità si va a trovare in una zona in cui non vi è rifornimento, perché non riesce più a comunicare con questo centro. Ebbene, durante la fase di attrition si vanno a verificare se ci sono delle unità fuori rifornimento e se sono dei corpi, questi vengono eliminati così come fossero stati eliminati in battaglia, cioè vengono posti nello spazio delle unità eliminate. Se a essere fuori rifornimento sono delle armate, immaginiamo addirittura che questa armata si trovi in questa posizione e quindi fuori dai rifornimenti perché non riesce a raggiungere Breslau dato che entrambe queste linee risultano essere tagliate, le armate sono permanentemente eliminate e quindi non si avrà modo di ricostruirle e alla lunga questo produrrà un'inferiorità numerica per quel giocatore. Quindi è molto importante quando si avanza lungo un fronte tenere sempre a mente di portare avanti la linea di rifornimento e quindi di non sbilanciarsi troppo. Durante la fase di siege invece quello che avviene è che i giocatori hanno l'opportunità di distruggere dei forti, cioè immaginiamo ad esempio che durante il turno di gioco questa unità abbia terminato il suo movimento su Varsavia. Varsavia è un forte dato che è il simbolo di stella, pertanto non viene immediatamente conquistata dal giocatore al passaggio. Quando arriva su un forte l'unità si ferma e la mette durante il turno sotto assedio. Questa unità può rimanere qui ferma durante il turno o il giocatore tedesco magari decide con azioni successive anche di riportarle indietro o di spostarla, pertanto se non sono presenti delle unità su Varsavia sufficienti ad avere una forza pari a quella del forte, il forte non risulta più sotto assedio. Ma se alla fine del turno sono rimasti dei forti sotto assedio, quindi delle unità nemiche sul forte la cui forza è pari o superiore al valore del forte, in questa fase viene semplicemente tirato un dato. Se il risultato del dato, nel mio caso ho fatto 1, risulta essere superiore al valore del livello di fortificazione del forte, il forte risulta caduto. In caso il numero sia uguale o inferiore come nel mio caso, le truppe tedesche non sono riuscite a distruggere questo forte. Se invece dell'1 avessi tirato un 6, il forte sarebbe stato distrutto, quindi si va a mettere l'indicazione del forte distrutto. Andiamo anche qui sul modulo Vassal a cancellare questo numerino. E quindi a tutti gli effetti diciamo che questa città, Varsavia, diventa una città normale come Lodz, cioè una città dove non è più presente un forte. I forti non potranno più essere ricostruiti nel gioco, quindi una volta persi risultano tali. Dopo la fase di siege c'è una fase in cui viene verificato il war status, cioè si vanno a vedere se un giocatore ha vinto la partita, se c'è una vittoria automatica. Nel gioco quando vengono occupate queste città con il bordo rosso si guadagnano punti vittoria, pertanto dobbiamo ogni volta che spostiamo le nostre unità aumentare di 1 l'indicatore di punti vittoria se le potenze centrali catturano obiettivi durante il loro movimento, oppure quando li cattura il giocatore alleato dovremmo diminuire i punti vittoria. Più il livello dei punti vittoria è basso, più sta vincendo, se vogliamo, il giocatore alleato, più l'indicatore dei punti vittoria è alto, sta vincendo il giocatore delle potenze centrali. Così come quando giocheremo delle carte che forniranno dei punti vittoria con una fazione piuttosto che l'altra, questo track andrà ad incrementarsi se i punti sono ad appannaggio del giocatore delle potenze centrali, andranno a diminuire se invece sono ad appannaggio del giocatore alleato. Se questo indicatore risulta arrivare a 0 o a 20 c'è un automatic victory per gli alleati o per le potenze centrali. Se no, se ci troviamo magari all'ultimo turno di gioco si va a vedere qual è il punteggio in base allo scenario che stiamo giocando, ci saranno delle soglie che ci diranno se ha vinto un giocatore piuttosto che l'altro, piuttosto che si abbia parità. In questa fase, quindi oltre a verificare queste informazioni, c'è una cosa molto importante che deve essere fatta, viene tralasciata solamente durante il primo turno di gioco, che è il check del commitment del livello di guerra, ovvero abbiamo detto che su questo track ci sono questi indicatori, il war status delle potenze centrali e il war status degli alleati. Questi war status si vanno ad incrementare attraverso l'utilizzo di alcune carte che spostano verso destra questi indicatori, questi non potranno scendere. Quando questo indicatore raggiungerà i livelli critici di 4 o di 11, si entrerà in uno stato di guerra di limited war o di total war. All'inizio del gioco il livello di guerra in cui ci troviamo il livello di mobilitazione. Quando raggiungiamo il livello 4, in questa fase del war status phase, una potenza raggiunge, come dicevo, il livello di limited war oppure può raggiungere il livello di total war. Questo passaggio al limited war o al total war può essere anche sfalsata per le potenze, cioè una potenza può raggiungere, che ne so, la limited war al terzo turno e una al quinto, così come una può essere il limited war e intanto l'altra è già raggiunta la total war. Questo passaggio ha diversi effetti, primo fra tutti, il mazzo di carte che si va ad utilizzare. Nel gioco infatti sono presenti tre tipi di mazzi di carte. Il primo mazzo con cui giocano i giocatori è il mazzo di carte di mobilitazione. Quando entriamo nella limited war, alla fine del turno si aggiungeranno quindi un ulteriore mazzo di carte, che è il mazzo di limited war, quindi le carte andranno ad arricchirsi. Quando raggiungiamo la total war, aggiungiamo un altro mazzo di carte, che è il mazzo di total war, quindi il numero delle carte a nostra disposizione andrà ad aumentare. Un altro impatto molto importante è ad esempio l'ingresso della Turchia in guerra, perché la Turchia entrerà in guerra a fianco delle potenze centrali quando raggiungeremo effettivamente la limited war. In quel caso questo scenario di guerra si aprirà. Quando andiamo ad aggiungere le nostre carte di limited o total war, quello che facciamo è mischiamo queste carte al mazzo di pesca che attualmente ancora abbiamo a disposizione e al mazzo degli scarti. Alcune carte, quelle che saranno state rimosse dal gioco in precedenza, sono effettivamente rimosse dal gioco e quindi non le andremo a considerare. E a questo punto andremo poi all'inizio del turno nell'action phase a pescare nuove carte. Infine, l'ultima cosa che andiamo a fare nella fase successiva è la fase dei replacement point, ovvero se durante il turno abbiamo fatto sì di accrescere i nostri punti di rifordimento, prima il giocatore alleato, poi il giocatore della potenza centrale possono portare nuovi rinforzi, nuove truppe sulla plancia di gioco. Più che nuovi rinforzi, proprio posso ricostruire delle unità che avevano già. Non utilizzo il termine rinforzi perché lo vedremo a breve, è una cosa a sé stava. Questa in sintesi è la sequenza di gioco, quindi ripeto, molto semplice, si determinano prima le offensive obbligatorie tirando un dato, poi si esegue la fase delle azioni, se azioni per parte, check delle out of supply, si esegue la fase di siege qualora bisogna mettere sotto assedio un forte, e infine si determina il war phase, se bisogna aggiungere nuove carte, se si è arrivati a un determinato livello di guerra. Si piazzano i rinforzi, si pescano nuove carte, e si procede all'offensiva obbligatoria per il turno successivo. Vediamo quindi come si svolgono le fasi delle azioni, che sono il cuore del gioco, quindi cosa può fare un giocatore con una carta. Allora, innanzitutto vediamo come è fatta una carta. Vediamo qui ad esempio, la metto sulla plancia di gioco, questa carta delle potenze centrali, si chiama Ganso Focus, carta con cui è cominciato questo scenario storico. Una carta innanzitutto ha in alto riportato il mazzo di appartenenza, questa è una carta di mobilitazione. Poi ha due numeri in alto a sinistra, il primo numero, quello più grande, rappresenta il valore in punti operazione che riguarda la carta, il secondo, quello più piccolo, è i punti di movimento strategico che potremo eseguire con la carta stessa. Qui abbiamo il titolo, se una carta all'asterisco una volta che è giocata deve essere rimossa dal gioco. In rosso abbiamo alcune precondizioni delle varie carte, alcune possono essere giocate sempre, altre possono essere giocate solo se magari una carta in precedenza è stata giocata, quindi cose di questo tipo che andremo a leggere qui. E poi tra parentesi potremo avere in alcune carte un numerino. Questo numero rappresenta due, nell'esempio, il valore del war status che ci dà diritto questa carta ad incrementare qualora giocassimo questa carta come evento, ovvero all'inizio dello scenario la situazione risulta essere questa, gli alleati hanno uno stato di guerra pari a zero, le potenze centrali hanno uno stato di guerra pari a due, perché proprio in questo scenario storico le potenze centrali giocano come prima carta, obbligatoriamente, questa carta qui, Gansofocus, che ha due, pertanto partiamo da due, proprio perché il modulo ha già spostato in automatico di due il war status. Ultima cosa a cui possiamo dare un'occhiata su una carta è questa banda che si trova qui in basso, che rappresenta i punti di rifornimento, i punti di rinforzo, a cui ci dà diritto la carta stessa, se giocata per questa finalità. Alcune carte poi sono delle carte combattimento che potranno essere giocate all'interno di un combattimento per fornire dei bonus o dei malus, dei bonus a noi, dei malus magari al nostro nemico, e si riconoscono perché hanno una CC, combat carta, proprio stampata sopra. Allora, immaginando che sia il nostro turno, abbiamo detto che abbiamo sei azioni a nostra disposizione, quello che possiamo fare è, in sostanza, giocare una carta per utilizzare o i punti operazione, quindi questo numero in alto, o utilizzare lo strategic redeployment, quindi questo numero che si trova qui a destra, o usare i replacement point, quindi questi numeri che si trovano qui, o semplicemente vogliamo sfruttare l'evento della carta, quindi leggere quanto è qui riportato e sfruttare questa stessa. Abbiamo anche un'opzione, quella di non giocar carte, tra virgolette, passare, in quel caso giocheremo, avremo diritto ad utilizzare una operazione sola, è come se avessimo virtualmente giocato una carta da un punto operazione. Oppure, quello che possiamo fare, è offrire una pace al nostro avversario, se il livello dei punti vittoria è all'interno di un certo range. In quel caso, se un giocatore offre una pace all'altro suo avversario, e l'avversario accetta il gioco termina in un pareggio, se l'avversario decide di rifiutare, viene tirato un dado, in base al risultato del dado, ci può essere uno shift dei punti vittoria verso un giocatore piuttosto che verso l'altro giocatore, è anche un nulla di fatto. Quindi questo è un modo anche per terminare la partita, se vogliamo, con la firma di un armistizio, una stretta di mano. Vediamo quindi quello che possiamo fare giocando la carta come punti operazione. Allora, quando giochiamo una carta, immaginiamo di giocare questa carta per i punti operazione, in realtà, quindi tre punti operazione. Quello che andiamo a fare è, la carta verrà scartata naturalmente, anche se è una carta con l'asterisco, perché non la stiamo utilizzando per l'evento stesso, ma abbiamo diritto a attivare delle location, cioè nel gioco quello che viene fatto non si attivano le unità, prima battuta, ma si attivano le zone da cui partono le unità. Pertanto, avendo tre punti operazione dad utilizzate, da utilizzare, noi potremo scegliere di attivare per il movimento, o di attivare per l'attacco, una location, per esempio Koblenz, una seconda location, Metz, una terza location, Liegi, indipendentemente dal numero delle unità che sono presenti sugli Liegi. Quindi questa casella, tra virgolette, non ci costa due punti operazione, ce ne costa uno solo, perché il costo di attivazione di una location è pari al numero di nazionalità differenti delle unità presenti sulla location. Qui abbiamo due unità tedesche, quindi in sostanza una singola nazionalità stiamo ordinando, paghiamo un punto. Se invece avessimo una situazione tipo questa, dove abbiamo una unità francese e un'unità inglese, e il giocatore alleato volesse attivare per un attacco nel suo turno questa location, questa location costerebbe due punti operazione, uno per ogni nazionalità qui presente. Quindi, non l'ho detto prima, lo dico adesso, nel gioco avremo un limite di stacking delle unità presenti su una location che pare a un massimo di tre. Nel caso degli alleati, quindi potremo avere per esempio una zona sul fronte occidentale, in cui possiamo avere per esempio una truppa italiana, quando l'Italia entrerà in guerra, una truppa inglese e una truppa francese. Se noi vorremmo attivare quell'unica location dove sono presenti in tutte e tre le nazionalità per spostare poi queste unità, dovremmo pagare tre punti operazione. Quando decidiamo di attivare, pertanto, queste città, queste location, prima attiviamo le unità del movimento, quindi si seguono i primi movimenti, questa unità per esempio si può muovere di tre, può fare uno, due e tre, per esempio, piuttosto che può muoversi uno e due per rinforzare questo fronte, può muovere questa unità attraverso delle zone in cui abbiamo dato l'ordine di attacco, ma non può terminare il suo movimento in una zona dove è stato dato l'ordine di attacco, pertanto in questo attacco non possono partecipare tutte e tre unità, devono partecipare solo quelle due che erano presenti all'inizio e questa unità non può fermarsi qui. In aggiunta, quando andiamo a muovere un'unità, quando diamo l'ordine di movimento dell'unità, potremmo anche decidere di non muoverla e solamente dopo che è stata giocata una carta particolare che è l'entrench, cercare di creare una trincea. Per cercare di creare una trincea dovremmo andare a tirare un dado e dire che questa unità non si muove e verificare il risultato. Se il risultato è pari o inferiore al valore del loss factor, quindi il numero che si trova qui al centro, l'unità riesce a trincerarsi. Nel caso tirassimo un numero maggiore, come in questo caso ho fatto 5, il tentativo è fallito. Se avessi tirato per esempio questo 2, avremmo ottenuto un risultato positivo e avremmo posizionato qui una trincea su Koblenz. Cosa fanno le trincee? In maniera molto semplice e immediata forniscono dei bonus nei combattimenti, quindi se vogliamo mantenere la posizione di un fronte, è conveniente utilizzare questo meccanismo. Tra l'altro, affinché sia possibile creare una trincea, è sufficiente che un'unità presente nella location che è stata attivata per il movimento decida di non muoversi e decida di scavare la trincea. Questo significa che se noi abbiamo due unità in questa location e spendiamo un punto per azione per dichiarare un'azione di movimento in questa location, e questo è lecito perché, nonostante abbiamo due unità distinte, la nazionalità è sempre la stessa, un'unità può muoversi, per esempio qui ad Aken, e l'altra invece che rimane ferma decidiamo che scavi una trincea. Tiriamo il dato e verifichiamo se è successo. Una volta che abbiamo eseguito i movimenti, cominciamo a questo punto a dichiarare gli attacchi. Gli attacchi possono essere eseguiti solamente su delle location che sono adiacenti, quindi questa unità che si trova a Metz può per esempio attaccare Nancy, Verdun o Sedan, gli EG può attaccare Sedan o Bruxelles. Possiamo eseguire degli attacchi, diciamo, tra virgolette, diretti, immaginiamo, non so, per esempio, che Metz attacchi Sedan, oppure se due unità, se due location che abbiamo attivato per l'attacco, entrambe risultano essere confinanti con il nostro unico target, potremo anche tentare un attacco combinato e ottenere il cosiddetto fiancheggiamento. Questa è un'opzione che ha il giocatore. In questo esempio, se volessimo attaccare Sedan con le nostre forze presenti a Metz e gli EG, potremmo quindi dichiarare un attacco normale, e qui andremo a sommare la forza delle nostre unità, 5 più 5 più 5, 15, contro le tre unità di Sedan, e quindi eseguire un attacco 15 a 3, oppure tentare un fiancheggiamento, dato che stiamo attaccando da due zone adiacenti lo stesso target. qualora si decida di eseguire un fiancheggiamento, viene dichiarata che una delle unità è l'attacco principale, immaginiamo che da Metz arrivi l'attacco principale, e che da Liege arrivi il fiancheggiamento. In quel caso bisogna tirare un dado, e il risultato deve essere, affinché si abbia successo, un 4 o più. In realtà ho fatto due, quindi ho fallito il fiancheggiamento. C'è un modificatore a questo tiro di dado, ovvero se la truppa che sta fiancheggiando non ha altri nemici oltre al target del fiancheggiamento adiacenti, beneficia di un più 1. In questo caso aveva le truppe qui a Bruxelles che confinavano con Liege, quindi questa unità non poteva occuparsi al 100% su Sedan e attaccare e eseguire il fiancheggiamento in tutta tranquillità. Pertanto non ho beneficiato del bonus di più 1. Se queste unità fossero state qui, ad esempio, questa unità avrebbe beneficiato di un bonus di più 1 che non era comunque sufficiente affinché il fiancheggiamento fosse andato a buon fine e quindi il fiancheggiamento risulta essere fallito. Se ci fosse stato un attacco triplice come in questo caso, e ripeto, questa era la forza attaccante e le forze fiancheggiatrici in questo esempio erano due e nessuna di queste due altri nemici oltre il target adiacenti avremmo beneficiato di un più 2, un più 1 per ogni forza fiancheggiatrice. In questo caso, 2 più 2, 4 avremmo ottenuto successo. Cosa accade quando si ha un fiancheggiamento? Di norma il combattimento è in contemporaneo, quindi senza fiancheggiamento avremmo attaccato in contemporaneo a 15 contro 3. Se invece tentiamo un fiancheggiamento e il fiancheggiamento risulta essere, avere successo, allora è l'attaccante che combatte per primo, esegue i suoi danni e poi il difensore va a rispondere. Se il tentativo di fiancheggiamento è falito come in questo caso, in realtà è il difensore, quindi nell'esempio questa armata francese a forza 3, che attacca per prima e quindi infligge eventuali danni e poi sarà il giocatore che ha tentato il fiancheggiamento ad attaccare. Vediamo come si svolge questo attacco. L'attacco si svolge in maniera molto semplice, si va a sommare la forza delle unità che sono in gioco, quindi qui abbiamo 15 e qui 3. Abbiamo detto che il fiancheggiamento è fallito, quindi in realtà attaccherà prima il giocatore francese, però di norma, immaginiamo che sia un combattimento senza fiancheggiamento, si computano questi valori 15 a 3. L'attaccante dichiara se vuol giocare una o più carte combattimento, dopodiché sarà, eventualmente le gioca, sarà il giocatore in difesa che gioca uno o più carte combattimento se ne ha a disposizione, viene lanciato un dato per l'attaccante e un dato per il difensore. Si va a questo punto a vedere la tabella di combattimento in cui si va a confrontare il risultato del dato con la forza delle unità che stanno combattendo. Quindi se non fossero utilizzate delle carte, in questo caso il giocatore tedesco attacca sulla colonna da 15 e il giocatore francese risponde sulla colonna da 3. Esistono due tabelle, la tabella delle armate e la tabella dei corpi, con dei valori naturalmente diversi, in cui se non sono presenti armate si utilizza la tabella dei corpi. Se è presente almeno un'armata viene utilizzata la tabella delle armate. Pertanto un'armata francese da 3, per esempio, con un corpo, se la situazione fosse stata questa, da Sedan avremo risposto sotto la colonna comunque delle armate da 4. Ci sono eventuali modificatori a questi dadi che dovremmo tenere presente. Per esempio qui la Terran Effect che ci dà questo chart importante e vediamo per esempio sulle trincee che accennavamo prima, qualora si stia attaccando una location con una trincea, non è questo il nostro caso, però se fosse stata trincerata Sedan, il giocatore all'offensiva avrebbe tirato sulla tabella di fuoco con una colonna a sinistra, cioè non avrebbe attaccato al 15, ma su questa colonna a 12-14, mentre il giocatore in difesa in trincea avrebbe guadagnato uno spostamento verso destra sulle colonne di fuoco, quindi se ci fosse stata sempre una trincea a Sedan invece che sulla colonna da 3 avremmo tirato sulla colonna da 4. In aggiunta, un'altra cosa importante, alcune tipologie di terreno bloccano il fiancheggiamento. In particolare non si può fiancheggiare una persona che si difende in montagna in una palude e nelle trincee e per esempio, per quanto riguarda i fattori di combattimento, la montagna e la palude danno un malus all'attaccante ma non danno un beneficio diretto alla potenza di fuoco del giocatore in difesa. Ebbene, determinate le tabelle, i giocatori vanno a tirare un dado, come dicevo, vanno a verificare il risultato e leggono questi numeri che sono qui presenti. Questi numeri sono i loss factor, cioè quante perdite infliggono al giocatore avversario. Immaginando che questo sia il tiro del dado del giocatore delle potenze centrali che ha tirato sulla colonna da 15, andiamo a vedere il 4, sono 7 ferite, mentre il giocatore alleato che ha tirato un 1 sulla colonna da 3 ha fatto una ferita. Allora, per applicare queste ferite dobbiamo andare a vedere il numerino centrale, appunto il fattore di forza delle varie unità e il loss factor per l'appunto, e quindi affinché riusciamo a colpire l'unità tedesca dovremmo fare almeno 3 ferite. Se avessimo fatto 3 ferite all'unità tedesca, a scelta del giocatore tedesco, questi avrebbero dovuto ridurre una di queste 3 armate, per esempio in questo modo. Dal momento che però abbiamo tirato un 1 sulla colonna da 3 abbiamo fatto solo una ferita e una ferita non è sufficiente a ribaltare nessuna, diciamo che è come se fosse perso questo loss factor. Avremmo dovuto fare almeno un 4 al lancio di Dali. Il giocatore invece tedesco ha fatto un 4 sulla colonna da 15 e sono 7 loss factor. I primi 3 vengono utilizzati per ribaltare, per ridurre l'unità. I secondi 3 vengono utilizzati per ridurre nuovamente l'unità. Ora, l'armata ridotta, quando viene ridotta ulteriormente, in realtà viene eliminata. Viene eliminata e viene posizionata in questo box. Al suo posto, dal box dei rifornimenti, qui, andiamo a prendere un corpo e lo andiamo a posizionare a Sedan. A questo punto abbiamo soddisfatto 6 perdite su 7. Dobbiamo continuare, quindi questo corpo ha un punto di loss factor, lo flippiamo e quindi l'abbiamo ridotto ulteriormente. Abbiamo inflitto le nostre 7 ferite. La regola vuole che se abbiamo una combinazione particolare di armate, unità e nazionalità varie su questa location, dobbiamo di norma farsi trovare il modo, se esiste, di cappare e di soddisfare tutte le ferite a nostra disposizione che ci vengono inflitte. Ci sono una priorità che più priorità di questa che prende il sopravvento solamente quando stiamo attaccando come giocatore alleato e abbiamo in questo combattimento come attaccanti delle unità inglesi. In quel caso dovremmo dare priorità prima al BEF che momentaneamente si trova qui sotto Bruxelles, poi al MEF e poi alle truppe australiane e canadesi. Però salvo questa condizione particolare in genere dovremmo sempre attribuire quante più ferite possibili per cercare di soddisfare il numero che abbiamo ottenuto. A questo punto se a valle del combattimento c'è un vincitore cioè una delle due fazioni ha ottenuto ha inflitto più loss factor dell'altro il giocatore che ha perso innanzitutto deve scartare tutte le sue carte combattimento se le ha utilizzate. Il vincitore che lascia nella zona davanti a sé che sono state giocate potrà continuare a sfruttarle fino alla fine del turno fin tanto che non perde un combattimento. Più che perde fin tanto che non vince un combattimento perché in caso di pareggio cioè se ambo i giocatori hanno fatto lo stesso numero di loss factor e le carte combattimento che hanno davanti questi giocatori vengono comunque scartate. Se il difensore è il vincitore l'attaccante rimane fermo sulle sue posizioni se l'attaccante è il vincitore potrebbe avere l'opportunità di avanzare cioè se ha almeno un'armata ancora a forza piena che ha partecipato all'attacco allora forza la ritirata al giocatore in difesa il giocatore in difesa sarà costretto a ritirarsi di un numero di spazi che è pari ad uno o due a seconda se la differenza tra il loss factor inflitto dall'attaccante al difensore o quello dal difensore all'attaccante è uno o più nel nostro esempio abbiamo fatto sette loss factor contro un solo loss factor quindi è più di uno la differenza l'unità che è sopravvissuta dovrebbe essere costretta a ritirarsi di due spazi per esempio potrebbe andare a Chateau Thierry e poi a Cambrai il giocatore francese il giocatore tedesco che ha vinto può a questo punto avanzare per esempio con questa unità se lo va a fare va a posizionare un suo segnalino di controllo su Sedan e andrà a prendere pure un punto vittoria può decidere di avanzare magari anche con questa unità insomma a sua scelta non è obbligato così come non è neanche obbligato ad avanzare necessariamente può anche decidere di eseguire questo attacco e non avanzare oltre alcuni territori però giocano un ruolo particolare durante le ritirate lo vediamo sempre qui negli effetti del terreno perché in alcuni casi si ha l'opzione di cancellare la ritirata ovvero l'unità che si stava difendendo in trincea nel deserto in foresta come Sedan in montagna e in 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 palure quindi tutti i terreni che non sono terreni chiari liberi possono decidere di subire un ulteriore loss factor per evitare la ritirata in pieno in questo esempio non è una scelta saggia perché significa eliminare definitivamente questa unità ma se supponiamo fossero sopravvissuti a questi attacchi due corpi di questo tipo il giocatore alleato potrebbe decidere di subire un'altra perdita e quindi magari di flippare questo secondo corpo e impedire e bloccare la ritirata in maniera tale che il giocatore tedesco non potesse avanzare così facendo diciamo questo termina se vogliamo questo esempio di turno del giocatore tedesco e l'esempio di gioco di una carta per i punti operazione l'altra tipologia di azione che può fare il giocatore è utilizzare i punti di strategic redeploy quindi questi quattro punti con questi quattro punti un giocatore può spostare o una sua armata da un punto all'altro dei territori che lui controlla quindi magari può decidere di spostare questa armata da qui fino a qua giù a patto che vada a eseguire un percorso tutto attraverso territori che lui controlla oppure può spostare fino a quattro corpi perché un corpo costa un punto di strategic redeploy un'armata costa quattro quindi magari può decidere di non so spostare questo qui questo qui via e via discorrendo questo qua giù oltre a spostare questi corpi sulla plancia di gioco può anche spostare un corpo costa un punto questa mossa dal box delle riserve sulla plancia di gioco in un punto in cui ha già un'unità di quella nazionalità cosa significa questo? significa che immaginando di rimettere questo questo corpo al punto di partenza che stava qua giù io potrei spendere uno di questi quattro punti di strategic redeploy per spostare questo corpo qui eseguendo questo movimento lungo tutti i percorsi che controllo e poi riprendere un altro corpo con un altro punto di strategic redeploy e posizionarlo qui perché c'era già un'unità tedesca in maniatale che ho rinforzato pesantemente questa città fortificata quindi questa è un'opzione che hanno i giocatori in questo caso immaginando di giocare questa carta per i punti di replacement potremmo dire che andiamo a prendere questo box questo quadratino della nostra seconda azione e averla giocata come strategic redeploy non come replacement come strategic redeploy quindi come seconda azione del nostro turno questo è importante perché come dicevo all'inizio del gioco alcune azioni possono essere eseguite più di una volta durante il turno ma non come azioni consecutive quindi questo significa che adesso il giocatore alleato giocherà la sua seconda azione quando tocca nuovamente al giocatore della potenza centrale questo non potrà giocare la sua terza carta per nuovamente un SR perché già abbiamo giocato la seconda dobbiamo aspettare almeno la quarta per giocare come SR potrà giocare la terza come una carta di replacement come punti operazione come azioni per esempio o quant'altro che succede se lo andiamo a giocare come replacement point in maniera molto semplice vediamo che questa carta ci dà diritto ad un rinforzo austriaco due tedeschi e un turco quindi andiamo a prendere questo indicatore lo mandiamo sul 2 l'austriaco lo mandiamo sull'1 il turco lo mandiamo sull'1 e come già detto mettiamo l'indicatore che abbiamo utilizzato la terza carta per i replacement anche qui se vogliamo giocare altri rimpiazzi dovremmo aspettare la quinta carta almeno non potremo giocare la quarta ci sono alcune carte che sono carte di rinforzo quindi andiamo a vedere se ne peschiamo una eccola qui questa per esempio è una carta di rinforzo non possono essere giocate le carte di rinforzo per l'evento nel primo turno di gioco quindi dovremmo aspettare almeno il secondo turno per giocarle come rinforzi quando una carta rinforzo viene giocata come evento all'asterisco quindi questa carta viene rimossa dal gioco però ci dà diritto a chiamare la non armata tedesca quindi significa che andiamo a prendere la non armata tedesca eccola e possiamo andarla a posizionare a Berlino Breslau o Essen ovvero o in capitale Berlino o in uno dei due centri di distribuzione Essen e Breslau immaginiamo che vogliamo rinforzare il fronte occidentale la manderemo ad Essen in questa maniera allo stesso modo se avremo dei rinforzi austro-ungarici potremmo andargli a mettere su Vienna o Budapest se avremo dei rinforzi francesi avremo Parigi o Londra per i rinforzi britannici avremo Italia avremo Roma per i rinforzi del giocatore italiano per quanto riguarda invece il fronte sovietico potremmo posizionarli nel Caucasus a Kharkov o a Mosca a seconda della direttrice che vorremmo andare a rinforzare o colpire durante le nostre mosse successive le carte rinforzo sono particolari perché può essere giocata solamente una per nazione per turno quindi se noi abbiamo due carte di rinforzo tedesche durante il turno abbiamo giocato la quarta per German Reinforcement non possiamo giocarla nuovamente in questo turno per i rinforzi quindi o la giochiamo per le Ops piuttosto che per le SR o Replacement oppure dato che peschiamo sette carte a turno e ne giochiamo sei teoricamente ce la potremo tenere per sfruttarla al turno successivo un'altra azione importante sono le entrate in guerra delle nazioni neutrali pertanto a partire dalla Limited War ci sono delle carte tipo la Romania la Bulgaria l'Italia che permettono l'entrata in guerra di queste nazioni queste nazioni possono entrare in guerra una per turno in generale non per giocatore quindi se il primo atto dell'entrata nella Limited War del giocatore delle potenze centrali per esempio è far giocare la carta a Bulgaria per fare entrare la Bulgaria subito in guerra e il giocatore le ha anche gli i Limited War e ha in mano la carta Roma-Nigna o Italia non può giocarla per l'evento perché in quel turno è entrata in guerra una nazione dovrà tenerla per il turno successivo almeno o giocarla per altri scopi quindi sempre per i Replacement piuttosto che per lo Strategic Redeploy a questo punto immaginiamo che i giocatori abbiano svolto tutte le loro azioni e quindi il turno si sia concluso una volta che questo turno della fase delle azioni risulta essere concluso come dicevo ci sarà la fase dell'attrition la fase di assedio la fase del war status e poi abbiamo la fase dei Replacement in questo esempio il giocatore delle potenze centrali ha a disposizione un punto di Replacement per le unità turche ma la Turchia non è in guerra quindi useless abbiamo un punto per gli austro-ungarici e due punti per i tedeschi che potremo andare a spendere come possiamo spendere questi punti di Replacement allora innanzitutto possiamo spenderli su unità che si trovano subito sulla plancia di gioco possiamo andare a spendere un punto di Replacement per girare un'armata per esempio la settima armata tedesca dal lato ridotto al lato pieno questo ci costa un punto dei due punti a disposizione così come spostare diciamo così come render nuovamente a forza piena due corpi ridotti costa un punto quindi questo è un altro punto dei due che potremo spendere possiamo ricostruire delle armate cioè immaginando che durante il corso della partita questa unità sia stata eliminata nella fase dei rinforzi possiamo riportarla sulla plancia di gioco spendiamo due punti se vogliamo riportarla sulla plancia di gioco a forza piena possiamo metterla a Berlino Essen o Breslau come se fosse un rinforzo a tutti gli effetti oppure possiamo spendere un punto per riportarla a forza ridotta è la nostra scelta possiamo anche fare un lavoro analogo con i corpi immaginiamo che nel corso della partita ci siano state delle perdite pertanto questi li vado a porre negli eliminati per cui qui abbiamo dei corpi presenti abbiamo tre corpi tedeschi presenti nel box delle unità che sono appunto rimpiazzabili possiamo spendendo due punti di anzi spendendo un punto solo di replacement possiamo andare a porre due corpi ridotti così nel box delle riserve 2RB 2RB in maniera tale che sono stati posizionati qui spendendo un punto oppure possiamo girare un corpo ridotto a forza piena sulla mappa e questo stava qui giù da solo e posizionare un corpo ridotto nei replacement box eccolo qui in sintesi per tradurlo in maniera molto semplice uno step di armata costa un punto rimpiazzo uno step se vogliamo di corpo costa mezzo punto rimpiazzo quindi tutto ciò che ha a che fare con le armate ci costa un punto ricrearla ridotta un punto ricrearla piena sono due punti se già sulla mappa trasformarla da ridotta a piena ci costa un punto mentre per quanto riguarda il corpo girarne due da ridotti a pieni ci costa un punto portarne uno dal replacement al box delle riserve pieno ci costa un punto oppure ci costa un punto portarne due ridotti questo è molto importante avere sempre una riserva comunque sia piena perché nel combattimento come abbiamo visto prima qualora venga colpita un'armata un'armata diventa prima ridotta e poi dall'armata ridotta diventa un corpo un corpo a sua volta diventerà ridotto e poi viene eliminato se quando andiamo a eliminare un corpo un'armata non abbiamo un corpo di riserva da prendere e posizionare qui quell'armata è eliminata definitivamente pertanto a lungo andare bisogna fare comunque attenzione che ci sia un numero di corpi sufficienti qui di riserve pronti a subentrare alla sconfitta alla morte delle nostre armate questo per quanto riguarda le regole di gioco in sé una piccola menzione andiamo subito a vedere riguarda questa parte del track il commitment degli Stati Uniti in guerra e la capitolazione della Russia all'inizio del gioco gli Stati Uniti sono neutrali pertanto questo token è messo qui quando lo status di guerra combinato arriva al livello 30 dove c'è qui questa dicitura Zimmerman a questo punto questo box viene spostato sullo spazio Zimmerman Telegram all'Uved questo cosa significa? c'è una carta nel gioco che si chiama proprio i telegrammi di Zimmerman che potranno essere giocati solo in questo caso una volta che sono giocati questo token andrà avanti quindi andrà su Zimmerman Telegram e questo indicatore poi potrà andare avanti e quindi over there quando viene giocato l'omonimo evento questo evento over there potrà essere giocato ogni diciamo a partire dal turno successivo in cui sono giocati i telegrammi di Zimmerman in questo caso le truppe americane entreranno in guerra gli Stati Uniti entrano in guerra e potranno essere portati sulla plancia di gioco appunto le truppe statunitensi qui abbiamo un ragionamento analogo la Russia si trova in guerra per quanto riguarda la fazione degli alleati abbiamo un track di capitolazione durante l'eventuale avanzata del fronte del fronte orientale da parte delle truppe delle potenze centrali andremo a prendere questo token i punti vittoria lungo il fronte centrale e quindi se catturiamo l'Ods piuttosto che Varsavia e quant'altro questo indicatore andrà avanti quando questo indicatore raggiungerà almeno i tre punti allora questo simbolo qui potrà avanzare e potrà essere giocato la carta lo zar prende il comando quando questo zar prende il comando questo evento viene giocato questo indicatore viene spostato sotto l'omonimo box di questo di questo track a questo punto quando ci sarà un'altra condizione ovvero andiamo a vedere il war status più i punti del che le fazioni delle potenze centrali hanno fatto in Russia risulta essere 33 o più allora si potrà giocare una carta che è la caduta dello zar e quando questa viene giocata il track finirà sotto questo box fall of the zar dopo di ciò abbiamo qui un'altra condizione in base alla quale se il track avanza potremo giocare la carta rivoluzione bolshevica e quando giocheremo la rivoluzione bolshevica ci troveremo su questo track e infine successivamente l'ultimo step per la capitolazione della Russia è il trattato di Brest Litovsk in questo caso quando questa carta viene giocata diciamo che le truppe della Russia non possono più operare fuori dalla Russia dalla Germania dalla Turchia dall'Austria e dalla Romania eventuali truppe russe all'esterno di queste aree vengono eliminate inoltre le truppe russe non possono muovere diciamo attraverso con stack di altre unità alleate e non possono più attaccare quindi si è fermata una sorta appunto di di trattato di armistizio e di uscita dalla guerra delle unità sovietiche questo quindi si può avere qualora ci sia comunque sia una forte commitment combinato alla guerra e comunque sia un'avanzata del fronte delle potenze centrali di lungo il fronte orientale dalle per cui si siano catturate comunque delle location con dei punti vittoria quindi Lodz Varsavia Vilna Krovno per esempio e questo è quanto quindi ricapitolando car driven da due giocatori ambientazione prima guerra mondiale nel prossimo video andremo a vedere un esempio di gioco anzi andremo proprio a vedere se non ero sono due tour di esempio esteso di gioco tratti proprio dal regolamento di gioco di gioco di gioco